no ma verrebbe verrebbe da chiedersi no è spontanea ma noi non ce l'abbiamo un ministro del lavoro ma ciò che ce l'abbiamo infatti prende atto lavoro orlando giovani vanno dove salari sono più alti in italia tra i più bassi d'europa ma lo vedi che le sale cose non è mica scemo orlando è anche se a così cioè no 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 visto visto quello che che dice quello che fa il dubbio ti potrebbe anche venire ma ma invece non lo è ho detto che non lo è però è scusa allora orlando scusa perché lo sai io lo so che tu lo sai ma se lo sai e se se ti è tutto chiaro ma perché approfittando della bella stagione non vai in spagna a farti una bella chiacchierata con iolanda lavoro la spagna abbatte il precariato record di contratti stabili lei è iolanda diaz ministro del lavoro spagnolo è una specie di orlando che però sa fare il suo mestiere sai lei ha fatto una legge che limita fortemente i contratti a termine in spagna e così si sono impennati i posti stabili guarda 700 mila solo in aprire il numero più alto di sempre e parliamo di giovani e non di tende no voglio dire invece da noi piuttosto che correre il rischio di stabilizzare qualcuno sai quella cosa che servirebbe per fare una famiglia un mutuo sai dei figli ecco il problema è diventato come fare a recuperare altri precari sottopagati la lega rompe un tabù un tabù serve aumentare il numero di lavoratori stranieri quindi più immigrati che vengono dalla dalla libia dall'algeria dal congo dal belgo dal belga dal congo e quindi pace e immigrati che vengono parlano il turco il senegalese la lega ora vuole più immigrati e il mondo che si capovolge come se mentana dicesse da oggi basta maratone televisive è la stessa cosa ma io no io rischio sempre di sembrare un estremista ma la risposta a chi cerca lavoratori e non li trova non l'ho data io l'ho data quel vecchio leader comunista di quel grande paese che io a chi era Gorbaciov forse andrea no chi era Mao Zedong no che ah sì 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 Joe Biden sì pagateli di più pagateli di più la risposta di Biden e gli imprenditori che si lamentano di non trovare dipendenti benì l'ha capito anche Biden e questo vuol dire che non serve nemmeno uno troppo lucido a questo punto si capisce anche la reazione dei ragazzi in Veneto non so se l'avete visto le grandi dimissioni in Veneto in quattro mesi si licenziano in 66 mila più equilibrio tra vita e lavoro e adesso la mia domanda è come farlo in Veneto al posto dei gondolieri ci mettono i senegalesi con le piroghe no ma chissà Zaia come l'avrà presa vediamo